Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo, il microfono Wave 1 di Elgato, una periferica pensata principalmente per il gaming. Naturalmente potete utilizzarla anche per altri scopi, ma Elgato, se seguite un po' l'azienda, produce principalmente periferiche per il gaming. Se fate streaming su Twitch, video su YouTube o altrove, questa periferica potrebbe tornarvi utile perché vi permette di registrare la vostra voce senza frusci, senza rumori molesti, anche dalla distanza. Io ho provato praticamente a mettere il microfono laggiù dove c'è la soundbar, anche dalla distanza è in grado di captare la vostra voce in maniera chiara, limpida, pulita e soprattutto ad un volume elevato. Quindi non è che magari dovete per forza parlare al microfono vicini. Potete anche tenere il microfono distante, riesce a captare la vostra voce alla perfezione. Il microfono, come potete vedere, vanta un supporto che è praticamente incluso nella confezione, non può essere smontato, come si suol dire. Potete ruotarlo a seconda delle vostre esigenze, ma diciamo è tutto un pezzo. Quindi diciamo è un supporto che vi permette di tenere appunto il microfono in piedi senza problemi. Il microfono è regolabile, come potete vedere. Ora è collegato il cavo, però è regolabile. Potete adattarlo secondo le vostre esigenze. Anzi, nella confezione è presente anche un comodo supporto nel caso in cui vogliate posizionarlo in un certo modo. Il microfono può essere attivato e disattivato tramite la pressione di questo tasto, che come potete vedere cambia anche il LED. Diventa bianco quando è attivo, diventa rosso quando è disattivato. Quindi, insomma, se magari state giocando online e utilizzando questo microfono, potete attivare o disattivare la vostra voce rapidamente, con la pressione di questo tasto. Il microfono ha attacco USB-C. Dall'altra parte naturalmente è USB classico. Però qui diciamo ha USB-C, quindi potete utilizzare il cavo in dotazione per collegare il microfono al vostro PC. Quindi il microfono non è via jack, ma via USB, il che lo rende migliore perché, insomma, potete registrare la vostra voce in modo più chiaro, più limpido, più preciso, ma soprattutto ad un volume elevato, senza eventuali frusci e problemi vari. È presente anche un ingresso per le cuffie, o comunque per speaker esterni, nel caso in cui vogliate utilizzare questa periferica sia come periferica di uscita per la vostra voce che di entrata per eventuali cuffie, che non sono naturalmente incluse nella confezione. Il microfono si autoconfigura da solo, ma dovete poi riavviare il computer perché una volta che avete collegato il microfono al computer, non funziona inizialmente. Infatti, magari se pensate che sia rotto, riavviate il computer e inoltre tenete presente una cosa. Che questa è una manopola, cioè girandola, così aumentate e diminuite il volume. Non è un semplice tasto. Quindi magari potrebbe capitarvi che acquistate questo microfono, lo collegate al computer e non funziona, o la vostra voce non viene rilevata proprio perché avete il volume basso, o perché dovete riavviare il computer la prima volta. Fatto questo, diciamo, il microfono funziona perfettamente. Sono rimasto veramente contento perché, come vi ho detto, ho fatto dei video di prova e il microfono ha captato la mia voce alla perfezione. Non ha captato eventuali rumori, frusci o una voce tipo bassa o profonda o con l'eco, ma è stata una voce veramente pulitissima. Ci sono veramente rimasto, ok, parliamo di un microfono da 130 euro all'incirca, se non ricordo male, quindi non è un microfono economico. Però, cioè, il suo lavoro lo fa veramente egregiamente. Ora, io avevo un vecchio microfono di Auna, se non ricordo male, che aveva praticamente il supporto, quello che di solito va messo sui microfoni, per migliorare, tra virgolette, la qualità. Invece questo microfono non ne ha bisogno, infatti pensavo di utilizzare quel supporto, ma poi mi sono accorto che anche senza supporto, perché poi viene fornito così, ha una qualità davvero elevata. Personalmente, se siete alla ricerca di un microfono per fare streaming o video, io vi consiglio questo. Costa 130 euro circa, forse qualcosa in più o meno, non ricordo bene al momento. Però ne vale la pena, ne vale assolutamente la pena, perché potete utilizzarlo per fare, tra virgolette, dei video professionali. Ricapitolo un attimo. Questo pulsante può essere utilizzato per accendere e spegnere il microfono e ha anche una manopola per regolare il volume. Quindi, diciamo, non siete obbligati magari a prendere il mouse, andare nel software, abbassare il volume o stoppare il microfono. Potete fare tutto da qua. Il mouse ha un attacco USB, però dall'altra parte è USB-C, ha l'ingresso per le cuffie e può essere regolato in posizione, come potete vedere. Inoltre, ha un supporto che è già montato ed è presente nella confezione, così come lo notate. Ora, non sono stato molto tecnico in questo video, proprio perché, insomma, volevo darvi la possibilità di capire se questo microfono è adatto o meno per lo streaming e per i video su YouTube. Ora, ci sono tantissimi microfoni sul mercato. Alcuni microfoni, diciamo, sono rivolti a coloro che vogliono bazzicare con il computer. Altri microfoni sono rivolti a coloro che invece cercano un dispositivo per fare qualcosa di professionale. Personalmente io ve lo consiglio, perché sono rimasto davvero molto soddisfatto, ve lo posso assicurare, ad una distanza tipo così, praticamente, il microfono è riuscito a captare al meglio la mia voce e sembrava che praticamente avessi il microfono qua. Quindi, cioè, il volume è alto, è chiaro, non ci sono fruscini, non ci sono rumori molesti. È veramente un'ottima, per non dire, eccellente periferica. Fino adesso non ho riscontrato alcun problema, quindi io personalmente vi consiglio l'acquisto.